Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Che cosa mi raccontate? Fatemelo sapere nei commenti e bentornati in un video che non poteva mancare, un workout in quarantena. Non perdiamoci in chiacchiere, ci vediamo alla fine, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto. Un bacio! Ragazzi, mi stavo dimenticando una cosa molto importante, ricordate sempre di bere prima, durante e a fine allenamento. Iniziamo con il primo esercizio, slanci laterali e posteriori tre serie da quinci. Vi ricordo di tenere le braccia ferme per mantenere l'equilibrio. Un bacio! Ora lavoriamo l'interno coscia e vi mostro la posizione corretta. Immaginate come se vi doveste mettere seduti, le ginocchia non superano mai la punta dei piedi e dovete rimanere immobili. Sono tre serie da quinci secondi. Terzo esercizio, ponte per i lute. Ricordate che i piedi devono rimanere all'altezza delle spalle. Quando alzate il bacino, stringete forte i lute. Continuiamo a lavorare i glutei. Ultimi due esercizi per gli addominali. Io sono stanca, però vi ricordo sempre che sono tre serie da quinci. Ultimo modificazione abbastanza soft, ma prossimamente se volete ne faremo uno più intenso, sono pronta a qualunque sfida. Dopo questo allenamento ragazzi mi sacrificherò per voi e farò un bel tuff in piscina, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale Fashion Concept, mi chiamo Gaia e in questo video vi lancio una workout challenge, quindi un allenamento da fare insieme a me, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, se avete qualche consiglio lasciatelo in un commento, iscrivetevi al canale Fashion Concept se non l'avete ancora fatto e seguitemi su Instagram dove mi trovate come DiPolarBay, iscritto DiPolarBay, vi lascio un allenamento, un bacio! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!